Un video musicale a più voci per sensibilizzare e promuovere le donazioni a favore del San Matteo. È l'iniziativa di una ventina di artisti pavesi che hanno reinterpretato uno dei pezzi più famosi di Rino Gaetano. Dai Nailon ai Fiodla Nebbia, da Malavoglia a Sergio Tambu Tamburelli, in tanti hanno dato il loro contributo. La realizzazione tecnica del video non è stata semplice, visto che ogni cantante ha dovuto registrare la sua parte, ovviamente restando in casa e con mezzi più o meno casalinghi. La spinta sociale del progetto, però, hanno spiegato gli artisti. Non ci ha fatto desistere e molte sono state le adesioni dai generi più disparati. I fondi raccolti andranno direttamente a San Matteo, senza intermediazioni, per garantire la trasparenza e la completa assenza di uno scopo di lucro dell'iniziativa.